Buonasera a tutti, sono Matteo Fradarcangeli, sono un performer. Vi parlerò di questa mia performance, Il Viaggio, 33 giorni in Sud Italia in bicicletta. Ogni giorno io parlerò di questa performance e appoggiandomi anche a un'altra performance che ho fatto, un libro, Come ascoltare il tempo ulteriore. E infine leggerò Un Canto del Paradiso, il 33esimo, quindi il tema del viaggio centrale in questa performance. È un viaggio fisico che sto facendo, ma anche un viaggio mentale e spirituale. Oggi mi trovo a San Putito, San Etico, un bellissimo paese del Matese. E oggi farò vedere anche delle opere d'arti, quindi troverete dietro di me. questo murales, perché qui si riuniscono ogni anno i più grandi artisti del mondo per creare in questo paese una loro opera d'arte. Quindi vi invito a seguirmi anche nei prossimi video e vi saluto. Ciao ciao!